Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di... Marco da Ninja! Lo sapevo che ti avrei messo in difficoltà! E tu lo fai apposta, tu lo fai apposta! Allora, l'obiettivo di oggi è... Infiltrarsi nell'edificio, questo lo sono ricordato... Eh già, più o meno siamo in... Poi o meno siamo, controlliamo la mappa, ecco, andremo a chilometri... Nella X, quindi... Sì, sì, abbiamo staccato l'elettricità nelle episodi precedenti... Ma scendi! Dobbiamo andare nella X, c'è il tesoro là! Anche quando la guardia ti blocca il passaggio puoi tentare di distrarla! Metti, diciamo, la bombetta qua, che dici? Eh, direi... No, 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 siamo coglioni perché c'è il raggio di gittata qua! Perfetto! Guarda che io mi appizzo poi, eh! Dimmi quando lo vuoi fare! Scendi, scendi! Perfetto, dov'è? Qua, morto! Io, ma è terribile sta roba! Bellissimo! Che caspita! Cambio oggetto uno! Per saltare tieni premuto... Qua, di qua, di qua, di qua! Aspetta! Dai, dai! E poi tab, vai! Space! Quello che fai per il orientatore! Salta e space! A posto! Eh, control! Quello che è, vai! Ancora? No, a posto vai! Perfetto! Uh, la la! È questo! Devi saltare! Non c'è bisogno, a posto! Bellissimo! C'è la spalla! Sbigati, 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 sbigati! Vabbè ormai è scassato! Sbigati, sbigati, sbigati! Il tunnel del vapore! Sbigati, sbigati, sbigati! No, no, aspetta! Aspetta! Entra dentro, entra dentro! Meno male! Ti potevi nascondere nelle porte, capito? Che è sta roba? Uh, filmatino! Ma, di che è? Il bianco! Ah, no, no, non ci siamo finiti! Teletrasporto! Questo è un'arma nuova, sicuro! Premi, eh! La fischione! Vai! Non mi capire, abbiamo attivate? No, vi ho disattivato! Ok! No, così è! Vai, vai, tu vai! Sono attivi così, QG! Eh, però si disattivano qua! Allora, adesso... Vediamo, eh! Ora, ora! Vai, sbrigati, sbrigati! Ora entra un po' di logica! Ok! Oppure... Ti devi sbrigare a schiacciare questo! E salire subito! Oppure devi spingere questo qua! Perchè qua c'è una roba! Può anche darsi! Eh, quindi dai! Ma la devo tirare, forse! Eh sì! Non devi romperla! No, troppo! No, non devi romperla! Ok! Ora prendendo quella, questa cade! E poi ce la tiriamo sul pulsante, capito? Boom! Ma è ora! E' ora! E' ora! Non è che bisogna spingere... Bisogna spingerlo! Nel secondo momento, devi bisogna farlo finire qua! Tu vai, tu vai, tu vai! Ancora spingendo? Si! Eh, però si disattiva! Tu vai, tu vai! Giusto! Giusto! No, non giusto! Qua blocca tutto! Ma cosa ora salta? E te ne vai là sopra a prenderlo! E che cazzo serviva quel bottone? Che senso? Però come salgo qua sopra? In un modo ci sarà! Ah! Ah! Cerca di questa roba! Ah, lo puoi fare! Ok! Eh! Ah, vai, vai! No, non può camminare! Vedi che può! Può fare tutto! Può fare tutto! Lui è un serpente! L'abbiamo fatta! Era più semplice del previsto! Eh, siamo noi un po'... Coglionete! Lasciate che vi mandi le storie nascoste del... Tetsuji! Tetsuji! Non è corretto! Io tremo al cospetto di Tetsuji! Il più grande di Niga del Kramisomu! Eson... Vabbè, fai andare! Vabbè, il rotor l'ho recuperato, sti cacchi! Eeeh! Stavo dicendo che non ci sono nemici! Distrailo! Col... WAK! ma possiamo ammazzarlo? no non possiamo ammazzarlo provai sopra troppo veloce vabbè siamo qui devi distrarlo con l'altro che lo devo io a sinistra ma puoi scegli BOOM cos'era quel rumore? perfetto ora ora BOOM disattiva qua no sti cacchi disattiva qua che è sta roba? vabbè mi sto chiedendo anche io aspetta entra nella porta peccato che non si può entrare dall'interno della porta all'altra e ora scendi qua vai qua ma aspetta che questo scende se ne va di qua? eh io mi arra vai ora vai ora no aspetta veloce 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 aspetta cos'era quel rumore? ok scassa tutto ma lo uccidiamo male ma si madonna i movimenti non sono del tutto facili ah? ma forse ma scusa via la mappa stiamo arrivando sopra devi andare eh però si deve andare di qua vedi eh vai nel senso nel senso no nel senso non ti vedono secondo me mi vedono? no ah bravo infatti oddio che mi vedono si aspetta io vado a attaccarmi vai vuoi stare un pochino sotto perfetto ma io dico si a posto mi sembra ma non è da dove siamo scesi no vero? no anche perchè questo l'abbiamo appena regolato beh bravo infatti ok mi sa che ce l'abbiamo fatta eccolo cioè eccola vabbè vai il check point non il check point ok che dice hai? penetra nell'atore di sicurezza ma io direi che abbiamo finito esatto quindi ragazzi se il video vi è piaciuto ricordatevi lasciare un pollice in su di visitare la descrizione perchè lì ci sono tutte le cose che tutta utili che dovete sapere e ci vediamo al prossimo videozzo ciao ciao